Sassari, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 34enne residente nel comune di Sassari per evasione. Nel centro storico i militari del nucleo operativo e radiomobile, dopo aver attivato le ricerche tese al ritrovamento di un evaso dagli arresti domiciliari, hanno rintracciato il soggetto presso la sua abitazione in Viala Marmora, unitamente al proprio nucleo familiare. Alla vista dei militari l'evaso ha cercato di dileguarsi scappando sul tetto dell'abitazione, nonostante il tentativo di fuga, è stato prontamente fermato dai carabinieri. I militari hanno quindi tratto in arresto il soggetto per evasione ed è stato accompagnato presso la casa circondariale di Bancali.